Incidente nella mattinata di martedì 11 agosto nella zona della Graziola, a Faenza, dove un uomo classe 76 è rimasto ferito in piazzale Tambini. L'uomo in sella di uno scooter si stava dirigendo verso via di risorgimento. Sul lato opposto della strada stava viaggiando un Audi Q3, a bordo una coppia al volante, un uomo del 46. Quando l'automobilista ha iniziato la manovra per svoltare a sinistra e mettersi nel parcheggio al lato del Palacattani, i due veicoli hanno incrociato le traiettorie. Lo scooterista è quindi caduto violentamente a terra. Immediatamente è stato richiesto l'intervento del 118 delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'automedica. Il fritte è stato prima medicato sul luogo dell'incidente e poi trasportato all'ospedale di Faenza, illesa la coppia a bordo dell'Audi. Per chiarire le responsabilità alla base dell'incidente è intervenuto un'ambulante della Romagna Fentina.